E' Vicentina una dei due vicepresidenti nominati da Confindustria, è Barbara Beltrame Giacomello chiamata a far parte del nutrito team del nuovo vertice nazionale di Carlo Bonomi, si occuperà in prima persona della delicata quanto importante delega all'internazionalizzazione per il quinquennio 2020-2024, dopo aver già ricoperto altri incarichi di prestigio nell'associazione che riunisce gli industriali italiani e in federmeccanica, oltre che nel consiglio provinciale di Confindustria Vicenza, dove attualmente è vicepresidente di categoria a fianco di Luciano Vescovi. Per la nomina ufficiale si dovrà attendere il 20 maggio 2020 con la votazione nel corso dell'assemblea dopo la proposta presentata da Bonomi nel corso della mattinata. Dirigente dell'azienda AFV Beltrame Group, in cui si occupa di marketing e comunicazione, Barbara Beltrame Giacomello sarà affiancata da Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Telecom Italia e altri nomi noti dell'economia. Preprimi a congratularsi con lei Francesco Rucco, apprendo con piacere questa notizia, scrive il sindaco di Vicenza, che premia le capacità di Barbara Beltrame, imprenditrice che conosco personalmente. Seguito da Luciano Vescovi al timore degli industriali vicentini, siamo davvero felici di poterci congratulare con l'amica e collega per il suo ingresso. Barbara tra l'altro ha il pregio di essere stata molto vicina alle aziende, al nostro territorio, pur essendo rappresentante di un gruppo metalmeccanico importante con una storia lunghissima.